Buongiorno e bentrovati a questo nuovo Appuntamento con la rassegna stampa di Mattino 6 Iniziamo subito la lettura dei giornali Partendo dalle prime pagine dei quotidiani abruzzesi Vedete già alle mie spalle la prima pagina del centro Nell'edizione di Pescara Andiamola a vedere insieme L'apertura e la cronaca Qualcuno ha liberato i miei pitbull Il Labrador sbranato a San Giovanni Tiatino Masciarelli consegna un video ai carabinieri E poi prima di passare alle cronache regionali La disfatta dell'Italia ieri sera a San Siro Vergogna mondiale nella foto del CT Ventura Capochino che guarda il campo Solo pari 0-0 ieri sera con la Svezia Italia fuori dal mondiale Come non accadeva dal 1958 Continuiamo adesso con la lettura delle cronache regionali Di spalla troviamo il giallo di Giulianova Pittrice sparita L'ex marito tenta di togliersi la vita Una pressione insostenibile Per la fragile psiche di Giuseppe Santoleri La notizia anche il cadavere ritrovato vicino a Tolentino Sarebbe dell'ex moglie l'ha sconvolto Tanto da fargli ingerire tutti gli psicofarmaci che assumeva da qualche tempo La tormentata vicenda della scomparse e dell'ormai quasi certa morte di Renata Rapposelli L'apitrice di 64 anni di Chieti E a un'altra svolta domenica l'ex marito ha tentato il suicidio Andiamo avanti sempre nelle cronache Da Pescara palpeggia una ragazzina sul treno Un nigeriano di 27 anni è stato denunciato È stata la stessa ragazzina a segnalare il fatto al capotreno Che ha poi chiamato i carabinieri Per quanto riguarda il calcio di Serie B Sebastiani a Zeman siete tutti in discussione Dopo la sconfitta sul campo del bar interviene il presidente del Pescara Daniele Sebastiani La squadra ha giocato bene solo un tempo Purtroppo da qui in poi siamo tutti in discussione Sotto la fotonotizia Altra notizia di cronaca Crolla il solaio, una famiglia è salva Pescara, paura in via Galilei Madre e figlia portate in hotel All'interno del giornale le altre notizie Notizie Ancona, bimbo di 5 anni cade nel pozzo e muore E poi ancora un'altra notizia Inchiesta chiusa in 5 neguai Per il rogo a Fontevetica Tornando nella nostra regione Chiusa l'inchiesta per il rogo di agosto a Fontevetica Nella zona di Campo Imperatore Durante la rassegna degli ovini In 5 finiscono neguai per incendio colposo e favoreggiamento Quattro degli indagati sono originari di Popoli Il quinto è residente a Pietranico Andiamo nel taglio alto per vedere il focus Che riguarda i problemi del lavoro In particolare la Oneiwell 58 giorni di sciopero per i lavoratori Il dramma dei 420 lavoratori dell'azienda Che produce turbocompressori in Val di Sangre Poi la visita questa mattina di Gentiloni a Campli Che dà il via alla banda larga Per i comuni del cratere sismico Nel taglio basso come ogni giorno Troviamo il buongiorno Abruzzo di Giuliano di Tanna Piero Littale Argo Un amore senza fine Il pezzo è dedicato agli animali d'affezione Ai nostri cani, gatti Insomma a tutti quegli animali Che ci tengono compagnia E ci danno affetto Continuiamo con la lettura del quotidiano Il Centro Adesso andiamo a vedere la prima pagina di Chieti Lanciano Vasto Il titolo di apertura anche qui è di cronaca Investito sulle strisce fantasma A Chieti grave Fernando Cirotti 84 anni Ex cronista del tempo E riferimento del volley Proseguendo con la lettura delle notizie nelle cronache Ritroviamo il giallo della pittrice sparita Renata Rapposelli L'ex marito ha tentato di togliersi la vita E poi a Lanciano palpeggia sedicenne sul treno E' stato denunciato abbiamo già visto E poi vandali scatenati distrutti capitelli e vasi Tornano i raid notturni a Vasto Nel centro città da parte dei vandali Sulla passeggiata in Piazza Rossetti Sono stati devastati vasi e capitelli L'assessore Marcello condanna il gesto Sconfiggiamo questo malessere Ancora la cronaca sotto la fotografia Non ha ucciso la nonna Bomba nipote assolto dopo 15 mesi di carcere Andando avanti sulla pagina di Teramo Sempre sul quotidiano Il Centro Ritroviamo in apertura Il giallo della pittrice scomparsa L'ex marito tenta il suicidio La donna sparita da Giulianova Santoleri ingerisce farmaci E in rianimazione all'ospedale di Atri Andiamo a vedere le altre notizie Grave allieva del Delfico A 13 anni travolta da Ascoli Insieme alla madre E poi da Roseto degli Abruzzi Le imprese tartassati da Latari Gli aumenti della Latari applicati dal comune Colpiscono un po' tutte le categorie Ma soprattutto le imprese e le attività commerciali Con rincariche in alcuni casi sono arrivati al 50% Ad Alba steso sui binari a 18 anni Poi ci ripensa decisivo l'intervento degli amici Ai quali aveva confidato i propositi suicidi Rintracciato dalla Polfer Chiede agli agenti di indirizzarlo a qualcuno Che può dargli un supporto psicologico Andiamo avanti Ancora il quotidiano Il Centro Resta da vedere l'ultima delle quattro edizioni provinciali Quella di L'Aquila Avezzano Sulmona Rogo sul Gran Sasso In 5 nei guai Inchiesta chiusa Tre giovani accusati dell'incendio a fonte vetica Gli altri di favoreggiamento E poi sotto la fotografia Processo durato 20 anni L'Aquila o lo Stato deve risarcire 10.000 euro Per il ritardo Da Avezzano, Chiasso e Movida Il comune corre ai ripari E' pronto il comune a contrastare in modo più efficace Gli schiamazzi notturni e anche le associazioni di categoria Chiedono maggiori controlli in città Da Sulmona rubati soldi e slot machine in un bar Hanno forzato la porta del bar Pit Stop E hanno portato via due slot machine E una macchinetta cambiamonete E due settimane fa c'è stato un furto analogo In un altro bar Da Avezzano andiamo a vedere quest'altra notizia Condannato a sei mesi per abusi sulla ballerina I giudici li hanno inflitto sei anni e mezzo di reclusione Per aver violentato Dopo averle dato un passaggio in auto Una ballerina conosciuta in un night di Celano Massimo Di Toro, 52enne di Avezzano Assolto in primo grado E' stato invece condannato dalla Corte d'Appello dell'Aquila Andiamo a vedere adesso la prima pagina del messaggero Abruzzo Dunque cambiamo testata in apertura Santoleri tenta il suicidio Pitrice scomparsa Il marito Giuseppe ingerisce psicofarmaci Grave in ospedale Renata Rapposelli identificata da un bracciale E una collanina Rebus interrogatori Andiamo a leggere anche un estratto dell'articolo E' stato ricoverato nell'ospedale di Atri Per un'intossicazione da farmaci Giuseppe Santoleri Il marito di Renata Rapposelli Pitrice scomparsa Da Ancona dove viveva il 9 ottobre scorso Si tratterebbe di un tentato suicidio L'uomo è indagato assieme al figlio Simone Per concorso in omicidio E sarebbe in condizioni piuttosto gravi Intanto appare ormai certo Che il cadavere di Donna Rinvenuto il 10 novembre Nelle campagne di Tolentino In provincia di Macerata Sia proprio quello della pitrice Ci sarà l'esame del DNA Atteso per giovedì O venerdì prossimi Questo per quanto riguarda il giallo Della pitrice scomparsa Andiamo avanti con la lettura Del messaggero a centro pagina La fotonotizia calamità Il premier si impegna per il terramano Gentiloni In visita a Campi Per presentare il progetto Della banda larga nel cratere sismico Ancora la cronaca Ragazza uccisa dal terremoto Risarcimento di 440 mila euro Mancava il certificato di conformità sismica Pagherà lo Stato Andiamo anche qui a leggere un estratto dell'articolo Alice era appassionata di criminologia Per questo era venuta da Cerete Vicino Bergamo a studiare scienze Ed investigazione all'Aquila Il terremoto le faceva paura Le scosse la sera del 5 l'avevano messa in allarme E così aveva scritto un sms al fidanzato Dormirò con la felpa, le scarpe e uno zaino vicino al letto Era pronta a scappare Ma il sisma non le ha dato scampo Il ministero delle infrastrutture Dovrà dunque risarcire i familiari di Alice dal Brollo Della somma di 440 mila euro L'innovativa sentenza che non ha altri precedenti Nella quale a causa di un crollo Nel sisma del 2009 Viene condannato il genio civile E' stata emessa dal presidente Del Tribunale dell'Aquila Ciro Riviezzo Che ha dato ragione ai motivi della causa civile Espressi dall'avvocato del Foraquilano Andrea Filippi De Santis E del collega Mario Monteverde Proseguiamo con l'articolo di Spalla Il maltempo che sta arrivando nella nostra regione Allerta meteo Rischio allagamenti sulla costa Ieri è stata diramata proprio un'allerta meteo Dalla protezione civile Potrebbero essere 48 ore da incubo le prossime per l'Abruzzo Se i modelli previsionali dovessero essere confermati Con l'arrivo di pioggia e neve A quote diciamo di montagna Ma non elevatissime La protezione civile prevede precipitazioni di piogge eccezionali E nevicate come vi ho detto sui monti Andiamo a vedere le altre notizie Omicidio della nonna In cella da innocente Rimasto in carcere per 15 mesi Con l'accusa dell'omicidio della nonna Ieri Emilio Teti E' stato scagionato da tutte le accuse Per l'omicidio di bomba E poi Chieti Cartello per i ladri Nulla da rubare E' questo un cartello apposto Sulla porta d'ingresso della sede di piazza Garibaldi Dell'Aci Cartelli appunto che invitano i ladri a non sfondare le vetrine Perché non c'è niente da rubare Nel taglio alto Gli altri richiami Gran Sasso Nessuno vuole la gestione dell'albergo di Mussolini E poi il Teramo Tifosi violenti Spaccano un dente All'arbitro per quanto riguarda appunto Il tifo del Teramano E poi serie B Il Pescara tornerà in alto E la profezia di Mammarella Sarà il grande assente sabato prossimo Contro la Provercelli I numeri parlano chiaro Sull'involuzione del gruppo di Zeman Continuiamo con la lettura Delle prime pagine regionali Adesso passiamo alla città Il quotidiano della provincia di Teramo Anche qui l'apertura è dedicata Al giallo Rapposelli Marito della pittrice Tenta il suicidio In attesa dei riscontri sul DNA E dell'interrogatorio Giuseppe Santoleri Ricoverato per abuso di farmaci A centro pagina Tragedia Al liceo coreutico Madre e figlie In fin di vita Falciate alla fermata Del bus Vedete il titolo Sulla fotonotizia Andiamo nel taglio alto A vedere le altre Le altre notizie Quattro terramani bloccati Alle Maurizius Per un guasto Il volo meridiano Rientra con un solo motore Poi la crisi Di maggioranza Al comune di Teramo Pomante pronto A sfiduciare subito Brucchi Fratelli d'Italia Non firmerà mai La sfiducia Andiamo a vedere Di spalla Cinque indagati Per l'incendio colossale Di Fonte Vetica Sul Gran Sasso A Campo Imperatore Poi Torano Nuovo Bastonate Tra agricoltori In lite Sul confine Giulianova Il ladruncolo E nei guai Anche per truffa E poi sotto la fotografia E caos da primo giorno Di scuola Ogni scuola fa da sé Sulle regole Sull'affidamento Nel taglio basso Invece troviamo La cultura E l'arte Le opere di stampone All'Istituto Italiano Di Cultura Di New York Lasciamo le pagine Le prime pagine regionali Adesso apriamo lo spazio Dedicato al nazionale Partiamo dal Corriere Della sera In primo piano Vedete Già lo vedete Due notizie La prima di politica Con cui viene aperto Il giornale Renzi Apertura alla sinistra Bersani E' tardi Inutile a mucchiarsi Senza cambiare nulla L'intervento di Gentiloni Per evitare Toni divisivi E vedete anche Il commento Di Antonio Polito Il gioco del Cerino Per quanto sta accadendo All'interno Del centro-sinistra E nei rapporti Fra appunto Il PD E gli altri partiti Alla sua sinistra E poi La disfatta Dell'Italia E alla fine Buffon Piange Il titolo Senza Montiale Dopo 60 anni Vedete Il capitano azzurro Che non si dà pace Per quanto accaduto Ieri sera A San Siro E troviamo Il commento Di Massimo Gramellini Nel caffè Azzurro Tenebra E il titolo Vi leggiamo Un passaggio Perché è un articolo Davvero Davvero bello Da leggere Un mondiale Senza Italia Ma soprattutto Un'Italia Senza mondiale Addio notti Più o meno magiche Gruppi di ascolto Con pizza al taglio E birra ghiacciata Illusioni Di contare ancora qualcosa Almeno nel calcio L'ultimo fuoriclasse A quasi 40 anni Lo avete visto piangere A fine partita Mentre rendeva onore Ai vincitori Senza una recriminazione Ne ho lamento Non esiste frase Più abusata Insopportabile Io ci metto la faccia Ma Buffon Ce l'ha messa Davvero Gramellini Poi prosegue A restare a casa E la nazionale Peggiore Da quando siamo nati Poco talento E quel poco messo male In campo O tenuto addirittura fuori Per aprire gli armadi Svedesi Sarebbero bastate Dueli Agili e veloci Come il Sharawi E Insigne Il primo Ha giocato un bocconcino Di partite Il secondo Neanche quella E' stata una notte Rovesciata Nel senso Che La figura Graccia Dell'andata Ha costretto gli azzurri A giocare contro Natura All'attacco Un modulo Che non ci è mai riuscito Troppo bene Mentre la Svezia Ha potuto Truccarsi Da Italia Tra catenaccio Botte Simulazione E perdite di tempo Con quel portiere Che non tratteneva nulla Ma prendeva tutto E adesso E' la fine di un mondiale Mica la fine del mondo Si ricomincia Speriamo con Ancelotti Al posto di Ventura E chiunque altro Il posto di Tavec Il presidente Delle figuracce Che giustamente Si congeda Con la più Umiliante Di tutte Andiamo su Repubblica Ora Anche qui vedete Le due notizie Che si rincorrono Sui due principali Giornali italiani La sfida di Renzi Allarghiamo il PD Gelo di Bersani Il titolo di apertura Il segretario Niente a Biure Pronti a cambiare MDP Sono solo parole Ma c'è l'accordo Con Bonino E chiaramente C'è anche il commento E' il commento di Eugenio Scalfari I democratici E la sinistra Il titolo Della riflessione E poi Anche qui Le lacrime di Buffon Con la Svezia Finisce 0-0 La precedente esclusione Nel 1958 Il titolo Allora è disfatta azzurra Mondiali senza Italia Il pianto di Buffon Che ammette Abbiamo fallito Andiamo sulla stampa Anche qui Le principali notizie Apertura di Renzi Per quanto riguarda La sinistra Radicale Ma appunto Dalla sinistra Arriva il primo No Fassino dovrà mediare Con i fuoriusciti Del partito Partito Democratico Di Maio In missione a Washington Fedeli agli Stati Uniti Non a Putin Questo per quanto riguarda La politica E poi Andiamo a vedere Il titolo Invece sull'Italia Apocalisse azzurra Mondiali Addio Inutile Arrembaggio alla Svezia Dopo la sconfitta Dell'andata Il dramma Nelle lacrime Di Buffon Vedete L'abbraccio Con Bonucci Andiamo sul Fatto quotidiano Si cambia registro Sul fatto Soffiate su Consip Un'email Incastra I vertici Dell'arma E il titolo Di apertura Su uno scoop Del fatto Quotidiano Esclusivo Il messaggio Di Scafarto Sfuggito EPM Sapevano Dell'inchiesta Dal 23 giugno Del 2016 E poi Renzi Finge Di aprire Il PD Si inchina Ancora Rienver Più Giochi Che non Convincono Vedete La vignetta Sulla direzione Del partito Democratico E poi Andiamo A centropagina PD e Forza Italia Ora tagliamo I vitalizi Ma non lo fanno Ecco perché Promesse La legge Ricchetti E' rimasta Ferma Oltre Due anni E Non si sblocca Per il momento Il taglio Dei vitalizi Anche qui Ritroviamo Anche se in tono Minore La sconfitta Dell'Italia Banca rotta Dell'Italia 90 minuti Inutili 0 a 0 E l'addio Ai mondiali Tutti a casa Passa La Svezia Andiamo Sul sole 24 ore Il principale Quotidiano Economico E finanziario Italiano Il titolo Di apertura Allarme Tari Per le imprese Rischio Supertasse Comunali Andiamo A vedere Perché Ma anche Il decreto Per limitare La tassa Sulle aziende Incognita Sconti A forfè Sulle seconde Case Rimborsi Possibili Subito Sulla tariffa Gonfiata Di garage E cantine Scendiamo Andiamo A vedere Queste due Interviste Sulla rete Telecom Non faremo Finanza Mosgenich Ceo Di team E poi Cassa centrale Banca pronta Per l'esame BCE L'intervista Giorgio Bracalossi Che è il presidente Andiamo a vedere Il focus Tradizionale Nel taglio alto Adempimenti La compensazione Blocca lo speed payment Sull'iva Andiamo sul manifesto Il quotidiano comunista Il titolo Il titolo di apertura Numeri civici Sulla fotografia Caos a sinistra Non ci sono le condizioni Per una lista unitaria In polemica Con i partiti I civici Del brancaccio Cancellano L'assemblea nazionale Intanto Renzi Tratta Con i radicali In direzione Propone Scusate Una coalizione Che non c'è La minoranza Si astiene In Bersani Commenta Basta Chiacchiere Questo è il riassunto Per quanto sta accadendo Nel centro-sinistra Dopo la pesante Sconfitta Nelle elezioni Siciliane Andiamo Sul messaggero Adesso Il titolo Di apertura Pensioni Sconto sui contributi Per lasciare prima Di 67 anni Il governo Propone Nuove Esenzioni Per i lavoratori Delle 15 categorie Protette Ape social L'uscita è già A quota 46.000 E poi Il titolo Sulla Nazionale Vergogna Nazionale Disfatta Con la Svezia E 0-0 Via Ventura Tavecchio Rischia L'Italia Fuori dai mondiali Dopo 60 anni E il commento Lacrime dei giocatori Quella squadra improvvisata Metafora Di un paese Diviso Scrive Mario Aiello Andiamo sul tempo Qui Insomma Viene anche un po' Da sorridere Per sdrammatizzare Il dramma calcistico Che sta vivendo Il nostro paese La foto è quella Di una Di una zappa Mondiali di calcio Addio Dopo 60 anni L'Italia a casa Vergogna Andate a lavorare Il tempo Mette su carta Quello che tanti italiani Avranno pensato Ieri sera Vedendo la partita E come è andata a finire La partita della vita La partita della vita Contro la modesta Svezia È un'agonia Squadra molle Senza idee 90 minuti inutili In attacco Tutti colpevoli Ventura Tavecchi E giocatori E l'anno zero E il commento È cronaca Di un disastro Annunciato Firmato Da Tiziano Carmellini Proseguiamo Con Libero Andiamo a vedere Anche qui Il titolo Di apertura Tagliani All'assalto Dei nostri Portafogli Il Parlamento Dell'Unione Europea Setato di soldi Il Presidente Dell'Assemblea Di Strasburgo Uomo di Forza Italia Chiede di introdurre Nuove imposte Per raddoppiare Il bilancio Dell'Europa Tutto il contrario Di quello Che promette Berlusconi E poi L'Italia Non va Ai mondiali Morte a San Siro La nazionale Eliminata Dalla Svezia Ventura Sarà cacciato Ma non è tutta Colpa Sua E poi Troviamo di spalla L'articolo Di Vittorio Feltri TV del Menga Giretti Batte tutti Vittoria Diciamo Anche se non numerica Ma sicuramente E' così Nei fatti Per Giletti Con Non è l'arena Che ha battuto Fazio Con Che tempo che fa Il primo Sulla 7 Il secondo Su Rai 1 E poi Il giornale Il titolo Con la fotografia Dei giocatori In lacrime Fuori dal mondiale Delusione nazionale A San Siro L'Italia Non va oltre Lo 0-0 Con la Svezia Niente mondiali di Russia Batosta Da 10 miliardi Anche questa E' una considerazione Da fare Perché appunto Non c'è solo il dramma sportivo Ma anche quello economico Perché Non andare ai mondiali Comporta una serie Di ammanchi Nelle casse Della federazione Per quanto riguarda Sponsor E diritti E quant'altro E poi Poi la guerra La guerra dei Torcio Giletti Asfalta Rarai Record di ascolti Fazio Arranca E non è L'arena Fa il 9% Di share Andiamo sulla verità Andiamo a vedere anche qui Il titolo di apertura Dall'inchiesta Salta fuori La società Che fa Campagne elettorali Per Renzi La procura di Firenze Va avanti Sospette triangolazioni Di denaro Tra le aziende Della famiglia Dell'ex premier E quella di Patrizio Donnini Ex marito Dell'animatrice Della Leopolda Il braccio operativo Del segretario PD Per la raccolta Dei consensi E poi Grassi e Boldrini I veri Impresentabili A centropagina Andiamo sul Secolo d'Italia Andando a vedere Ancora quotidiani Che fanno riferimento All'area di centrodestra Distanze sinistre La foto di Bersani E Renzi Insomma E' un titolo Che fa anche Da commento A quanto sta accadendo Nel centro Sinistra E poi Sindacati No a Gentiloni Pensioni Nessun accordo In primo piano Inquisizione Made in PD Addio alla democrazia E ancora La Francia Non è impazzita No a Grammatica Gender Andiamo su Avvenire Quotidiano Cattolico Le pensioni In primo piano Trattativa All'ultimo round Sabato si chiude Sull'innalzamento Dell'età Sindacati divisi La CISL Pronta all'intesa La CGL Non ci sta E minaccia Lo sciopero Generale Dal governo 300 milioni E sconto a 15 categorie A centro pagina Una notizia che non abbiamo visto finora sugli altri quotidiani Terremoto fra Iran e Iraq La Turchia Tende la mano Oltre 400 finora I morti fra le macerie Forte la mobilitazione Andiamo sul mattino L'apertura è dedicata alla politica Alleanza Era offerta di Renzi Aperte a tutti Anche a MDP Ma no alle abiure Bersani dice Sono solo parole Direzione del PD Il segretario va incontro alla minoranza E tranquillizza minniti Migranti La linea è confermata Nel taglio alto Che sventura E il titolo Giocando sul cognome del CT L'Italia eliminata dalla Svezia Dopo 60 anni fuori dai mondiali CT protagonista Di una gestione tecnica fallimentare Il punto Lasciar fuori insigne Una vergogna E poi il commento Il disastro Dell'era Tavecchio Andiamo a vedere anche Il secolo XIX Il titolo Di apertura Su MPS Giallo MPS Svolta a Genova Nella procura Ecco i manager Da interrogare Per la morte sospetta Di David Rossi E poi Nel taglio alto Buio a San Siro L'Italia Fuori dai mondiali Andiamo a vedere adesso I quotidiani Sportivi nazionali Iniziamo dalla La gazzetta dello sport Nella foto Anche qui Di un Buffon Il capitano azzurro Mani tra i capelli Fine Italia Senza mondiali Dopo 60 anni Il commento Sulla partita Di ieri sera Soltanto 0-0 Con la Svezia Ventura si dimette Devo parlarne Con Tavecchio Le lacrime D'addio Di capitano Buffon Brutta conclusione Della carriera Con la nazionale L'editoriale Tutti a casa Si riparte Così Firmato da Andrea Monti Nel taglio basso La di bianconero Marotta Ossessione Champions Juve Rialzala Dopo le finali perse E ora di vincere una Niente scudetto Una sconfitta Andiamo sul Corriere Dello sport Fuori tutti Italia Dopo 60 anni Non va al mondiale Azzurri in lacrime Buffon Dice Scusateci Ventura Lascia Ma non deve Essere Il solo Il commento di Alessandro Vocalelli Rivoluzionare Questo calcio Servono idee E uomini Nuovi Nel taglio basso Napoli L'atletico Apre Fraslico Si può fare E poi Canne E Goretzka Marotta Fa i nomi Il DG Juve Si scopre Siamo interessati Nell'assemblea dei soci Il Milan Mette a posto I conti Il piano Di lì Pareggio di bilancio Nel 2020 E ingresso In borsa Andiamo a vedere Anche tutto sport Tutti a casa Dopo lo 0-0 Con la Svezia Italia fuori dal mondiale Era successo Soltanto 60 anni fa Zero gol segnati Nei playoff Con la Svezia Alla quale E' bastata un'autorete Di De Rossi Nel match di andata La vergogna Non coinvolge Solo Ventura Che non sarà più CT Ma l'intero movimento Buffon in lacrime Annuncia l'addio Alla nazionale E Andrea Pavan Scrive Ce lo siamo Meritato E non gli si può Dare torto Nel taglio basso Juve Champions Ormai è un'ossessione Canne Goretzka E si Marotta Settimo scudetto O è una sconfitta E per il Torino Cairo e il tesoretto A gennaio Ritocchi Non spenderò Molto Per il Milan Altri milioni Stadio nuovo Stop agli sprechi UEFA Va bene così Assemblea dei soci Aumento di capitale Ma niente colpi A gennaio Per quanto riguarda Il Milan Noi adesso Noi adesso ci fermiamo Per il break pubblicitario Prima però Grande attenzione Alle previsioni Del tempo Avete visto anche In precedenza L'allerta meteo Che coinvolge La nostra regione Dunque andiamo a vedere Insieme le previsioni Di meteo 6 E poi torniamo Con la seconda parte Della rassegna Eccoci di nuovo insieme Per la seconda parte Di mattino 6 Torniamo alle notizie Dalla nostra regione Andiamo nelle pagine Di primo piano Del quotidiano Il centro Dove troviamo La Oneiwell In sciopero Da 58 giorni Sotto la tenda Con i lavoratori Della Oneiwell Paure attese Adatessa Per i 420 dipendenti Che rischiano Il posto A turno Da settembre Presidiano Lo stabilimento Chiuso Il destino Si decide A Roma Perché oggi Il ministro Calenda Incontra L'azienda Un'azienda Che ha fatto richiesta I lavoratori Di tornare Al proprio posto Di lavoro Sindacati E rappresentanti Appunto Delle maestranze Chiedono invece Di poter sedere Al tavolo di trattativa Dove finora Non sono Stati Convocati E poi Nel taglio basso Dal caffè di rosa La figlia di Paolo Che rinuncia alla gara Le storie Le difficoltà E la solidarietà Che circonda I lavoratori Andiamo avanti Sempre in primo piano Il giallo Di Giulianova L'ex marito Della pittrice Tenta il suicidio Santoleri E in rianimazione Ad altri Non ha retto Alla notizia Del ritrovamento Del cadavere Salta Il suo interrogatorio Oggi sarà sentito Solo il figlio Simone Riunite ad Ancona Le due inchieste Sull'omicidio E sul corpo Di donna Scoperto In provincia Di Macerata Tolentino E iniziato L'esame del DNA Averdetto Fra appena Due giorni Nel taglio Nel taglio basso Sequestri E multe Nelle aziende agricole Ispezioni del NASI In tutta la regione Ecco dove Distrutti salumi E latticini Per carenze sanitarie Andiamo a vedere Anche la pagina Abruzzo Sempre sul quotidiano Il centro Fondi europei Aiuti sociali Arrivano 35 milioni L'assessore Sclocco Serviranno Per l'inclusione Di donne Giovani migranti Ed ex Detenuti Nel taglio alto Oggi Gentiloni Accampi Dal via Alla rivoluzione Digitale Banda ultralarga In tutta la regione A partire dai comuni Del cratere sismico Nel taglio basso Invece A sei comuni Incentivi Per le aree degradate Finanziati Fossa Cesia Bellante Guardia Grele San Martino Sulla Marucina Celano E Valle Castellana Andiamo a vedere Anche la pagina Abruzzo Sul messaggero La visita Del premier Gentiloni In primo piano Gentiloni Innaugura La banda larga Nel cratere sismico Connessione veloce In tutti i comuni Colpiti dal terremoto L'obiettivo E la crescita Delle aziende E l'aiuto Ai residenti E poi Troviamo anche Una notizia Che riguarda La ferrovia Melilla Un treno veloce Per Pescara E Roma E questa La richiesta Del deputato Di MDP Andiamo a vedere Insieme Il servizio Su questa notizia Realizzato da Paolo Lorenzetti Un treno Superveloce Sulla linea Pescara Roma Un treno Tutto dedicato Ai pendolari Onorevole Melilla Una proposta Concreta Importante Ma Quanto Realizzabile Il problema Il problema È proprio questo Che Trenitalia Dovrebbe convincersi A investire di più Sulla linea Pescara Roma Negli anni 70 Avevamo il rapido Il rapido Ci metteva tre ore E un minuto A collegare Pescara A Roma E c'erano Soltanto le fermate Di Pescara Sul Mono Avezzano E Tivoli Oggi le fermate Sono decine E decine Ci si ferma Addirittura Nell'area Metropolitana Di Roma Alle stazioni Di quartiere È chiaro Che questa Allunga molto I tempi E rende Non più Competitivo Il trasporto Ferroviario Quindi Il nostro È un grido D'allarme Per ragioni Ecologiche E anche Per ragioni Di sicurezza Tenuto conto Degli alti Dell'alto numero Di incidenti Stradali Che ci sono E quindi Del livello Di inquinamento Delle nostre città Ecco Noi vorremmo Spostare Un po' Di traffico Dalla strada Alla ferrovia Rete Ferrovia Italia Cosa pensa Di questa proposta Ma Trenitalia Credo che si ponga Il problema Perché se Andiamo avanti Il treno Per Roma Da Pescara Non lo prenderà Più nessuno E quindi Oltre che Il trasporto Pubblico Locale Su cui Trenitalia Fa un contratto Di servizio Con la regione Abruzzo Il trasporto Pubblico Locale È tutto ciò Che si sviluppa All'interno Della nostra regione Che riguarda Appunto Soprattutto Gli studenti I lavoratori Pendolari Gli utenti Del servizio Ferroviario Abruzzese Noi chiediamo Una maggiore Attenzione Sul servizio Interregionale Quindi quello Che collega L'Abruzzo A Lazio E a Roma Così come C'è stata Un'attenzione Importante Sulla Direttrice Adriatica Andiamo Nella pagina Abruzzo Della città Il quotidiano Della provincia Di Teramo Cinque indagati Per l'incendio Di Fonte Vetica La procura Dell'Aquila Chiude le indagini Tre nei guai Per incendio colposo Altri due Per favoreggiamento Il danno Per la procura L'incendio Ha provocato Un grave Danno Persistente Ed esteso All'ambiente Naturale E dalle aree Protette Stimabile In circa Un milione Centotrenta Mila Euro E poi Andiamo a vedere Insieme Le altre Notizie Stefania Pezzopane Emendamento Per la sicurezza Dei viadotti Di strada Dei parchi Ancora Il maltempo In arrivo E allerta In tutta La regione La protezione civile E chiede la massima Attenzione Attivata Alla sala Operativa Andiamo a vedere Anche il giallo Della pittrice Raposelli L'ex marito Tenta il suicidio Con i barbiturici Giuseppe Santoleri È ricoverato In rianimazione Ad Atri Per lui Slitta L'interrogatorio Attesa per il DNA Sul cadavere Di Tolentino Le indagini Atteso per oggi Il riscontro Del DNA Sul corpo Rinvenuto Nella scalpata Analisi Anche su Chiamate Tabulati Telefonici Il corpo Di Tolentino C'erano anche Un tau Un ciondolo Della Madonna Scarpe da tennis In una ciocca di capelli Compatibili Con quelli Della 64enne Di Chiedi Nel taglio basso Tutto pronto a Campli Per la visita Del premier Gentiloni Allestito Una tensostruttura Che ospiterà L'incontro Sulla fibra ottica Ultraveloce Andiamo ad aprire adesso Le pagine di Pescara Partiamo dal quotidiano Il centro Parla il proprietario Dei cani Qualcuno ha fatto uscire I nostri pitbull Masciarelli Si difende Spunta l'immagine Ripresa dalla telecamera Di un ragazzo In fuga dalla casa E' stato lui ad aprire Il cancello Abbiamo chiesto subito Scusa E' una cosa che comunque Non doveva Succedere Il commento di Andrea Masciarelli Sfiorata La disgrazia Le scuse Non bastano Il padrone Dell'Abrador Sbranato Erano tre furie Mio figlio Di dieci anni E' intervenuto Per difendermi Andiamo ancora avanti Con le notizie Da Pescara Palpeggia Sedicenne sul treno E' stato fermato La studentessa Era sul convoglio Pescara-Lanciano Il capotreno Avverte i carabinieri L'uomo è stato bloccato In stazione Scendiamo Altra notizia di cronaca C'è del solaio Sgomberate Madre e figlia Paura in via Galilei Intervento dei vigili Del fuoco E della municipale Le due donne Sono state portate In hotel Vedete che cosa E' accaduto All'interno Della camera Da letto Questo è il pezzo Di solaio Che si è staccato Ed è venuto giù Continuiamo Con le cronache Di Pescara No al corso Ha doppio senso Più servizi Per le biciclette Ciclisti anonimi Pescaresi Al comune Non si riconsegni La città Alle auto I biker Chiedono Che venga portato Avanti Dall'amministrazione Il progetto Di due ciclostazioni Custodite A Porta Nuove Alla stazione centrale In città Si riversano Oltre 100.000 Veicoli In entrate e in uscita Circa 35.000 Verso Monte Silvano 62.000 Verso il Teatino E i restanti Verso sud Andiamo nel taglio basso Concessioni balneari Legge delega Nel mirino Di Stefano Di Forza Italia Commento Una soluzione Che distruggerà La tipicità Del comparto turistico Italiano Andiamo a vedere insieme La conferenza stampa Dieri Tenuta appunto Da Forza Italia Un governo Non in grado Di poter garantire I diritti Dei balneatori italiani Ed abruzzesi In particolare Riguardo la direttiva Europea Bolkstein Lo dice il centrodestra Che questa mattina Per bocca Dell'onorevole Fabrizio Di Stefano Ha ribadito Che la revisione Ed il riordino Delle concessioni De maniali marittime Non possa essere demandato Ad un esecutivo Ormai arrivato A pochi mesi Dalla sua scadenza Con le elezioni Politiche Alle porte Beh hanno fatto Una legge delega Che è una presa in giro Una legge delega Il governo Che in sei mesi Deve trattare Per vedere Chi sa che cosa Sei mesi Un governo Che non ne ha di vita Sei mesi È una presa in giro Però pericolosa Perché Chiude la porta Ogni trattativa Con l'Europa Cioè Rinunciano A provare A strappare Come hanno fatto Altre nazioni Invece Modifiche Sostanziali Sulle scadenze Della Bolkestein Poi addirittura Arriva l'emendamento Pezzopane In Senato Che parlava Di 2050 Salvo Essere ritirato Cassato Dal capogruppo In commissione Del PD Allora è proprio Una presa Un'ultima presa Per i fondelli Evidentemente Il governo Con questo strumento Vuole andare In campagna elettorale A far A trattare Su territori Il discorso Delle concessioni La nostra proposta È appunto questa Trattare Con l'Europa Prima Però Dobbiamo sapere Quanto E lo stesso In commissione La stessa Agenzia Del territorio Ha ammesso Di non sapere Quante concessioni Ci sono In questo momento In Italia E quanti chilometri Prendono Queste concessioni Allora Senza avere nulla Andiamo a brancolare Nel buio Con una legge delega Facciamo invece Una ricognizione E poi andiamo In Europa A trattare Condizioni Con voce forte E con un governo Forte Governo forte Voce forte Che in questo momento In Italia non c'è Andiamo a vedere Andiamo a vedere La pagina di Pescara Sul messaggero Poi torneremo A completare La lettura Delle notizie Di Pescara Sul quotidiano Il centro L'apertura Cuzzi Di così A Pescara Capoluogo L'assessore Membro Dell'Assemblea Nazionale Del PD Rompe L'indugi Appoggia La proposta Di Enzo Cantagallo Ruolo di città Regione Per il supercomune Metropolitano Nel partito Si apre Il caso politico Dopo la frenata Di Rapino Nel segretario Cittadino Di Montesilvano Appunto Enzo Cantagallo Meno isolato Nella visione Strategica Della capitale Costiera Nata dal Referendum Unica Concessione All'Aquila Deve ritrovare Normalità e bellezza Sabato Il summit Convocato Da D'Alfonso E poi Mann e la sorella Minore Prevalgono I no I consiglieri Montesilvanesi Temono l'effetto Periferia Saremo comunque Sotto i 250.000 Abitanti Ritroviamo La notizia Del rogo Di Fontevetica Cinque pescaresi Verso il processo Chiusa l'inchiesta Sul disastro Sul Gran Sasso Dell'estate scorsa Sono considerati I cinque pescaresi Responsabili Del barbecue Che mandò in fumo 330 ettari Nel parco Del Gran Sasso E poi Tre denunciati A ritorno Da Bari Mazze e Petardi Nel furgone Dei tifosi Del Pescara Nel taglio basso La strada parco Via libera I bus Elettrici Andiamo a vedere Anche la pagina Dell'area metropolitana Un attore pescarese Stare in Francia Alessandro Febo Protagonista Sabato prossimo A Parigi Al Festival dei Corti Con il film In cui interpreta Un eroinomane Successi a ripetizione Oltralpe In programmazione In questi giorni Sulla televisione Berga Carline In Love A Montesilvano Ieri Premio nel ricordo Dei martiri Di Nassiria La cerimonia A Palazzo Baldoni E poi Troviamo le altre notizie L'ostruzionismo Ferma il mercato etnico Valanghe di vendamenti Al Consiglio Comunale Di Pescara E poi Niente sostituzioni Per i medici in ferie Asle Povera Notizia Che arriva Da Penne Torniamo sul Quotidiano Il Centro Andiamo a vedere insieme Le altre notizie Da Pescara Scontro Tra due comuni Per un tombino Scoperto Un cittadino Fa causa Dopo un incidente Sul marciapiede A Montesilvano Ma l'amministrazione Cita in giudizio Quella di Pescara Perché ricadrebbe Nel suo territorio Diamo avanti Il concorso Fotografie Dei ragazzi Sulla città Scusate Sulla città Sognata da Carlo Pace Cerimonia Liceo d'Annunzio Con la vedova Dell'ex sindaco Al premio Hanno partecipato 38 studenti Naturalmente Ci sono tutti I vincitori Nella pagina Dell'area metropolitana Il cantiere Del nuovo canile Slitta All'inizio del 2018 I lavori A Francavilla Dovevano finire A dicembre Ma restano ancora Sulla carta L'impianto Distrutto Nel 2013 Dall'alluvione Marinelli Scelto il sito Il progetto E' pronto Andiamo sulla pagina Di Montesilvano Ambiente Turismo Tocco Fanghi nel mare Una scelta Scellerata Insorge Il vicepresidente Di federalberghi Dopo il nulla Osta Del comitato Via Interrogazione Di Di Stefano Sullo smaltimento Dei sedimenti Del porto Di Ortona Vedete appunto Questa è la zona Scelta Questa qui L'area La pattumiera E qui c'è L'area marina Protetta Torre del Cerrano Andiamo avanti Nella pagina Di Penne Popole Dell'Alta Val Pescara Cimitero Ai privati La giunta Frena L'opposizione Attacca Cappelle sul tavo Pioggia di emendamenti Sul progetto La minoranza Troppi punti deboli E costi alti Per il comune Andiamo ancora avanti Notizia curiosa Le processioni abruzzesi Incantano Anche Napoli Delegazioni Da spoltore Chieti Nel capoluogo Campano Andiamo ad aprire Adesso la pagina Di Chieti Sempre sul quotidiano Il centro Il giallo risolto Nipote assolto Dopo 15 mesi di carcere Bomba Perizia Scaggiona Teti Dall'accusa di omicidio Per il giudice Non ha ucciso la nonna Che è morta Per arresto Cardiaco Scendiamo nel taglio basso Travolto sulle strisce Fantasma e grave Chieti In rianimazione Fernando Cirotti 84 anni Ex cronista Del tempo E punto di riferimento Del volley Andiamo avanti Sul quotidiano Il messaggero Andiamo ad aprire Anche qui La pagina Di Chieti Scrivono ai ladri Non c'è nulla Non le rompete Per rubare poche decine Di euro Gli ignoti Provocano danni Spaccando una finestra L'edificio È senza impianto Di allarme Pronti a installare La videosorveglianza Se vedete Vedete appunto I cartelli Citati Nell'articolo Ancora Cronaca Travolto in centro Cirotti in coma Indagata una donna Abbiamo visto anche in precedenza Sul centro E poi Giro di droghe in città Entrefiniscono In carcere Dietro alle sbarre Il teatino Mulana Gettò Mariana Dal finestrino Nei guai Anche due Albanesi Nella pagina Della provincia L'omicidio di bomba Il nipote assolto Morte per infarto Emilio Teti È rimasto in carcere 15 mesi Con l'accusa Di aver ucciso La nonna Decisiva La perizia Del medico legale Cristian Dovidio L'avvocato Sicchetti Chiederemo Un maxi Risarcimento Poi nel taglio basso Da vasto Spesa per la cultura Troppo elevata Coinvolgere il personale Comunale È sempre da vasto Il fiume Trinio Si colora di nero E scatta L'allarme Andiamo sulla pagina Dell'Aquila Sul messaggero L'apertura di pagina Nessuno vuole la gestione Dell'albergo di Mussolini A vuoto Ben tre bandi Emanati Dal CTGS Le uniche due offerte Erano senza requisiti Ora Una trattativa privata Per garantire L'apertura fino al passaggio Del Giro d'Italia Notizie migliori Per le fontali I lavori potrebbero Terminare In anticipo La città del futuro L'Aquila Palazzo del benzinaio Frenato Dal cinema E poi Nel taglio basso La sanità Biondi Superospedale Centrale 118 In città Sono le richieste Del sindaco Dell'Aquila Andiamo avanti Morte nel sisma Genio civile Condannato Sentenza unica Nel suo genere Nel tribunale Ai familiari Il ministero Delle infrastrutture Dovrà risarcire 440 mila euro La 21enne Alice Dal Brollo E' deceduta In via 20 settembre I giudici Gravi comportamenti Da parte dei funzionari Pubblici Continuiamo con La pagina di Avezzano Sulmona Andiamo a vedere L'apertura De Angelis Sicuro Non temo affatto Lana Trazoppa Il sindaco Io imprenditore Al servizio della città E intanto Spunta la nuova maggioranza Trapelano I nomi Dei Consiglieri Andiamo a vedere Anche sul quotidiano Il centro La pagina Dell'Aquila Eccola qui Incendio colposo Sul Gran Sasso Rogo a Fonte Vetica In 5 sono Nei guai Abbiamo già visto Anche in precedenza Nel taglio basso Gli amici della montagna Salutano Gilioli Celebrati nella chiesa Di San Pio X I funerali Dello speleologo Gli amici Ci ha insegnato Il rispetto Andiamo a vedere Anche la pagina Teramo Sul quotidiano Il centro Il caso Gran Sasso Lavori da 55 milioni Per l'acqua sicura Vertici a Palazzo Chigi Per programmare Tutti gli interventi Bisognerà fare Nuove captazioni Tubature in acciaio Un impianto Di microfiltrazione La progettazione Sarà svolta nel 2018 E l'opera eseguita Nel 2019 Insieme ai bypass Nelle gallerie Autostradali Altra notizia Dal Teramano Con un pugno Rompundente all'arbitro Un calciatore Del Rocca Santa Maria A fine partita Aggredisce Il direttore di gara Di Pescara Andiamo a vedere Anche sul messaggero Le principali notizie Dal Teramano I tumori sono in aumento Ma al Mazzini Manca la PET L'accusa Senza un dirigente Di chirurgia E come avere soldati Senza un generale Siamo al vertice Dell'oncologia italiana Nonostante la cronica Assenza di personale Il primario Medeo Pancotti Incremento del 5% Soprattutto Tra le donne Andiamo in provincia La figlia Ha riconosciuto Gli oggetti Della madre Giuseppe Tente il suicidio Siamo al caso Della pittrice Scomparsa Il figlio Simone Oggi da solo Dal PM Il padre Ricoverato In rianimazione Andiamo a vedere Sulla città Le altre notizie Dal Teramano Partiamo dalla scuola L'uscita è caos Da primo giorno di scuola Alla Molinari Monta la protesta Dei genitori Sulle nuove regole Per l'affidamento Dei minori Traffico aumentata La presenza di auto All'intorno all'istituto Ma il banco di prova Sarà la prima uscita In caso di maltempo E poi Madre e figlia investita La fermata del bus La tredicenne studentessa Promessa della danza Iscritta al liceo coreutico E in gravissime condizioni Ancora Entra in tribunale Con un coltello E' stato denunciato Un cinquantenne Teramano Nei guai A Reggio Emilia Fa scattare Il metal detector Teneva la lama Nel marsupio E poi La politica Pomante pronto A firmare Coi gattieni Contro Brucchi L'arancione bacchetta E il resto Dell'opposizione Per l'indecisione Su chi debba Intestarsi La caduta Del sindaco Fratelli d'Italia D'altra parte Non firmerà La sfiducia A Brucchi Il coordinatore Regionale Dianne Giandonato Morra Lo ribadisce Al congresso Provinciale Di Giulianova Andiamo in provincia Il blitz dei NAS Nelle aziende agricole Carenze igieniche Diversi quintali Di materiale Alimentare Distrutto E poi Una lite Tra agricoltori Finisce Abbastonate 65enne Di Torano Nei guai Per aver Aggredito Una donna Altre notizie Dopo i furti Le truffe Tredicenne Ancora nei guai Fotografa Gli abbonamenti Dei passeggeri Per viaggiare Gratis Sui treni Il precedente Sono almeno 20 furti Messi a segno Dal giovane Giuliese Andiamo nella pagina Di Roseto Pineto A tre silvi Strisce blu Altre modifiche In arrivo A Roseto L'amministrazione Annuncia nuove Sperimentazioni In città Torniamo Sul quotidiano Il centro Andiamo ad aprire La pagina Dedicata Alla serie B E dunque Quella Dello sport Il pescara In difficoltà Parla il presidente Sebastiani Siamo tutti In discussione Il numero uno Avverte Zeman La posizione in classifica Non rispecchia Il valore Della Rosa La squadra si esprime bene Solo a Sprazi A Bari Abbiamo giocato un buon Primo tempo E nella ripresa Siamo spariti L'allenatore L'allenatore dovrà Approfondire Questo aspetto Provercelli Reduce da due successi All'Adriatico Sarà però Senza Mammarella Queste le notizie In vista Della gara Di Sabato E sabato Tornerà in campo Capone Bovo Ancora Nell'attaccante Si riprenderà Il posto Nel tridente L'ex Torino Verso un nuovo Forfè Andiamo a vedere Sul messaggero La pagina dedicata Al Pescara L'apertura Della Bruzzo Sport Pescara Tornerà In alto Mammarella Grande assente Della sfida Con la Provercelli Dice I momenti di crisi Possono capitare Specie nelle squadre Giovani Non credo che i biancazzurri Non giochino il calcio Di Zeman Secondo me Devono imparare a gestire I momenti Delle partite E poi Passi indietro Pure i numeri Parlano chiaro Sull'involuzione Del gruppo guidato Da Zeman Poi la giornata Sabato Tornano Coda Capone E Benali Queste Questi recuperi Da parte Del tecnico Boemo Nel taglio basso Troviamo la Serie C Speranza Teramo Paghiamo i nostri errori Il capitano Fa autocritica Dopo l'amara sconfitta Casalinca Contro il Gubbio Andiamo a vedere Il titolo Allora Sulla Serie C Che propone Il quotidiano Il centro Il tallone D'Achille Teramo L'attacco in crisi Solo 4 gol Su azione Dalle punte schierate Da Asta Capitan Speranza Non drammatizza In un processo Di crescita Ci può stare qualche intoppo Ripartiamo con fiducia Verso la salvezza Intanto nel posticipo Fra Vicenza E Sant'Arcangelo È finita 2 a 1 Per i romagnoli E poi Il passo falso Interno Col Gubbio Tornando al Teramo Ha raffreddato Gli entusiasmi Dopo la serie positiva Di 8 risultati utili All'orizzonte La sfida esterna Contro Il Renate Nel taglio basso Troviamo L'eccellenza Il Di Gigi Allorosso Il presidente Del San Buceto Vernacotola Giuliano Varialzati Cacciagrano Tatomir Da Applausi Passiamo Sempre sul centro Alla serie D La crisi societaria Dell'Aquila Segnali di fiducia I soci Il club Non fallirà L'assemblea Non approva Il bilancio Ma da L'ultimato Al gruppo Fioravanti Trattativa Da chiudere Entro il 30 novembre Resta L'amministratore Ranucci Andiamo a vedere Le altre notizie Per quanto riguarda Il calcio A Francavilla Si ferma anche Fiore Lavastese In corona Leonetti Lavezano Si gode Deramo E poi in promozione Il DS Pucetta Petitta Attacca Penalizzati Dagli arbitri In prima categoria Oggi il sì ufficiale Il derby Atletic Lanciano Domenica Allo stadio Biondi Andiamo a vedere L'altra pagina Dello sport Del centro Roseto Prende Carlino Per uscire Dalla crisi Basket Di A2 Il play Guardia L'americano Ex Cremona Arriverà domani In città Oggi per ora Conferma Comps E' destinato A tornare Negli Stati Uniti E poi per quanto riguarda Il basket Il basket Il basket di serie B Amatori E Teramo Il passo giusto Il presidente della UR Valentinetti Arbitri Finora Inadeguati Completiamo anche la lettura Delle altre pagine di sport Quella del messaggero Con la serie D In primo piano L'Avastese sta volando Grazie al bomber Leonetti E poi il Francavilla Con Iervese Che dice Dobbiamo migliorare I dettagli E poi l'Avezzano Paris Bravo Avezzano Ora siamo nei playoff Bisogna continuare Così Queste le parole Del presidente Dei Marsicani E poi il Pineto Pesa il conto Dei cartellini rossi E il San Nicolò Che ha superato Il momento Critico Andiamo a vedere Anche il titolo Sullo sport E la città Per quanto riguarda Il Teramo Così completiamo La lettura Delle notizie di sport Teramo L'impresa E digerire La sconfitta Contro il Gubbio Si è visto Un diavolo pimpante Al Bonolis Ma punito Troppo severamente Mettersi alle spalle La beffa Di domenica scorsa Sarà L'obiettivo Della settimana E poi nel taglio basso Troviamo l'eccellenza Real Giulianova Si ferma Proprio sul più bello Sconfitta Per i giallorossi Vittorie Con vista Playoff Per Martin Sicuro E Torrese Abbiamo completato Anche la rassegna stampa Per questa mattina Io vi ringrazio Per essere stati Con noi Vi ricordo Gli appuntamenti Con la nostra informazione Oggi alle 14 Alle 19 E alle 23 Con il TG6 Mattino 6 Torna domani mattina Alle ore 8 Grazie ancora Per essere stati In nostra compagnia E buon proseguimento Di giornata Vi ringrazio È stati in una informazione Con la nostra informazione Vi ringrazio Grazie a tutti